Avete letto bene, avete letto bene sia il titolo che quello Milan batte Paris Saint Germain 2 a 1 Proprio la partita dove avevo letto che se il Milan avesse perso Pioli sarebbe stato a rischio Serio, serio, serio rischio Io ero già col cazzo in mano pronto a festeggiare Cosa succede? Il Milan batte il PSG In una vittoria inutile Una vittoria che getterà tanto, tanto fumo negli occhi Perché questo farà E vedrete che già dalla partita con il Lecce La situazione tornerà Alla normalità Vedrete ragazzi Vedrete Poi contro il Lecce Che figura di merda faremo sabato Il Milan ha giocato bene? Sì Probabilmente è la miglior partita dall'inizio della stagione adesso A parte che ci voleva poco Comunque sì Ha vinto meritatamente? Sì Meritava di vincere con più gol? Sì Gestita bene? Sì Ma una sola Vogliamo ricordare cosa è successo sabato scorso? Perché se noi abbiamo vinto la prima partita di campionato col PSG L'Udinese ha vinto Se noi abbiamo vinto la prima partita di Champions League con il PSG alla quarta L'Udinese ha vinto la prima con il Milan l'undicesima È vero che sono due competizioni diverse Ma il Milan è una sola Il Milan è una squadra sola ragazzi Io vi ricordo che veniamo da Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite Se Cervello vi ricorda di campionato Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro Con soli due gol segnati A Napoli dove ci siamo fatti riprendere come dei fottuti polli Perché questo è l'argomento centrale del video Non è la partita con il PSG Che vi gette la fumo negli occhi Perché adesso abbiamo vinto col PSG Sarete tutti gasati come delle merde E invece no Io vi avverto Come la vittoria col Verona o col Cagliari o con la Lazio Con la Lazio ho detto Guardate che la Lazio ci ha fatto vincere E voi invece non mi credete mai Mi date dello stupido Non capisce niente Ma è giusto così È giusto così ragazzi Perché il Milan vi sta dando il bastone E la carota Così poi non è che mi dite occasionale Cazzate varie Io Per essere felice Ci vuole un periodo dove il Milan gioca bene Per essere incazzato Ci vuole un periodo dove gioca male E questo è un periodo che gioca male E io per una partita giocata bene Non mi esalto Come non mi incazzo Per una partita giocata male In un periodo in cui giochi bene L'uno vale l'altro L'uno l'opposo dell'altro ragazzi Il Milan sta giocando male Sì Oggi ha giocato bene Sì Godi no Sei contento o no Non sei contento Perché il Milan tutt'ora è ancora lontano Lontano da passare il turno in Champions League Che comunque passare il turno Comporterà a giocare altre partite Gli ottavi È vero che porta dei soldi Però poi porterà a giocare Gli ottavi di finale Dove si romperanno altri giocatori Intanto oggi Vedrete che Musa e Pulisic Che era appena rientrato da un infortunio Le abbiamo persi per almeno un mese l'uno Vedrete domani Quando usciranno le notizie Degli esami strumentali Vedrete Che abbiamo ancora perso Musa E Pulisic E giocheremo a tempo indeterminato Con quella pippa assurda di Krunic Però Però Fa notizia che il Milan ha vinto col PSG Dopo che ha preso tre schiaffi laggiù Due settimane fa Dove poteva tranquillamente pareggiarla E metterla su un binario diverso Ha deciso di perdere Dove a Dortmund Potevano vincere 2-3-0 Ha deciso di pareggiare Dove con Newcastle in casa Potevano vincere 2-3 anche 4-0 E ha deciso di pareggiare pure lì Arriva una vittoria col PSG Ci esaltiamo Voi vi esaltate Perché sul carro Dei festeggiamenti Ci si sale Uno se si vincono titoli O se non si vincono titoli Quando la squadra È la squadra che funziona Che gira Che gioca bene E non è il Milan Di oggi Non è il Milan Che ha giocato contro il PSG E non è neanche il Milan Degli ultimi due mesi Post Lazio in poi Perché ripeto A me serve la striscia Non la partita Non me ne faccio un cazzo Della partita Mi serve la striscia Il periodo A me serve un Milan Che ha voglia di lottare Per qualcosa Milan che perde Una 0 in casa Con l'Udinese Cosa mi rappresenta Se non un cazzo Oggi la partita Si commenta da sola Il Milan ha giocato bene Ha vinto Ha fatto due gol meritati Ne meritava di fare anche di più A parte due tettili centrali Sbagliati Che ovviamente Sono all'ordine del giorno Però è stata Praticamente impeccabile Il primo gol Vabbè glielo abbiamo regalato Doveva far gol Skinner per forza L'abbiamo fatto fare Più che altro Non è che abbiamo regalato il gol Più che altro Il calcio d'angolo Leao ce l'ha fatta A fare un gol In Champions League Dopo una vita e mezzo E L'abbiamo esaltato Più di non so cosa Giroud Che fa gol All'85esimo cross Provato Dopo che 84 Di quelli Sono andati a puttane Milan vince Ma Io ho bisogno di più Se voi vi accontentate di questo Problemi vostri Io no Io no ragazzi Non mi accontento di questo Io ho bisogno di più Questo Milan deve fare di più E ho visto il Lecce come gioca ragazzi Lecce gioca bene Sabato Ritorneremo Tutti sul pianeta Terra Segnatevi questa parte Di video Fate lo screen Scaricatevelo Fate quello che volete Perché il Milan Sabato Tornerà sul pianeta Terra Poi ci sarà la pausa Poi la Fiorentina Lì andremo Direttamente Sotto terra Poi magari Col Dortmund Qualcosa Diremo fuori Lì tutti esaltati Di nuovo Ma ricordatevi Che la strada è lunga E di bestemmi Quest'anno Ne dobbiamo tirare Ancora parecchie Finché Quei allenatori del cazzo Non ce lo tolgono Dalle palle Perché non ne possiamo più Solo che adesso Una rondina Fatto primavera E siete tutti Fottutamente contenti No No Io ci metto la faccia Io ci metto la faccia Perché io rileggo I post del Milan I commenti Più che altro Dove Perdi Vinci bravi Grandi Campioni Finalmente Leao Innamorato di te Io non sono così Mi dispiace Sempre stato Io Valuto Sul lungo periodo E non sul breve periodo Sbaglierò Sbaglierò Però Almeno Non mi creo false aspettative E quando giochiamo di merda Tipo tre giorni fa Non rosico Non festeggio E non rosico Tutto qui Non desidera la partita Ve l'ho fatta Niente da dire Forse che manca Un rosso per screen Era abbastanza netto Nel secondo tempo Partita Prestazione Altamente Sufficiente Per tutti Anche per Ternandez Che comunque Primo tempo Pensava di essere Il fratello Poi il secondo tempo Almeno un assist L'ha messo Sufficiente Purtroppo Anche i pioni Perché Ogni tanto Va messo E nient'altro Da dire Se non Sabato Ci vediamo qui Stesso posto Alle 17.30 Per parlare Di un Milan Che non avrà vinto Contro il Lecce Alla prossima